Ben trovate e ben trovati, sono qui per dirvi brevemente a che punto stiamo con la nostra proposta di emendamento al cuore Italia, proposta che abbiamo lanciato giovedì, che venerdì stella è stata presentata con emendamento al cuore Italia stesso, a prima firma del senatore Nannicini del Partito Democratico e che sta accogliendo molte adesioni sia all'interno della maggioranza che è all'interno dell'opposizione. L'obiettivo è mettere a disposizione per i prossimi tre anni all'interno del Fondo Sanitario Nazionale un fondo dedicato e vincolato per il sostegno all'assistenza domiciliare. Un fondo di circa 1 miliardo e 200 milioni di euro, diviso per 300 milioni nel 2020, 400 nel 2021 e 500 nel 2022. Una proposta che è sostenuta da moltissime organizzazioni, circa 70 nel mondo civico, del mondo scientifico, del mondo medico, delle professioni sanitarie e anche del mondo delle imprese. Perché questo? Perché i servizi sanitari territoriali sono stati a lungo tempo trascurati, non ci sono stati investimenti e in questo momento di difficoltà stiamo vedendo all'interno dell'emergenza coronavirus, stiamo vedendo quanto sono importanti invece i servizi sanitari territoriali e quanto ci manca il fatto di non avere un'assistenza domiciliare di qualità. Ci manca perché le persone stanno morendo in casa senza assistenza, ci manca perché i malati cronici per paura di andare in ospedale rischiano di non farsi curare, ci manca perché potremmo curare molto meglio ad esempio a casa le persone, gli anziani che all'interno delle case di cura del nostro paese, dell'RSA, stanno morendo quasi che fosse un destino ineluttabile e invece ineluttabile non è. C'è la possibilità e c'è il dovere di curare a casa queste persone e c'è perché può essere una opzione fondamentale in un momento di grande difficoltà. Quindi abbiamo fatto questa proposta e abbiamo anche trovato le risorse per finanziarla. Abbiamo trovato le risorse all'interno di una rimodulazione delle tasse per il cosiddetto tabacco riscaldato. Cosa è il tabacco riscaldato? È la base per fare una tipologia di sigarette elettroniche. Stiamo facendo una battaglia, abbiamo fatto questa proposta al governo e in questo momento si stanno muovendo legittimamente tutta una serie di lobby ovviamente che hanno interessi contraposti, hanno interessi a che questa tassazione non venga toccata. Chiediamo chiaramente che le forze di maggioranza si esprimano. Chiediamo che si esprimano perché in un paese normale le scelte che hanno a che fare con il futuro delle persone in un paese dove abbiamo tutti quanti stiamo dicendo da un lato io resto a casa e se vuoi che io resti a casa mi devi mettere nelle condizioni di curarmi al meglio e dall'altra diciamo prima le persone ma se diciamo prima le persone ognuno si deve assumere responsabilità che questo sia negli atti concreti. Quindi in questo momento c'è la necessità che la politica si assuma chiaramente le proprie responsabilità. Lo chiediamo ai leader dei partiti di maggioranza in modo molto chiaro di dire quali sono gli eventuali ostacoli all'approvazione di questo ammendamento, se ci sono altri tipi di interessi che vanno privilegiati e chiediamo a tutto il Parlamento, quindi anche all'opposizione, di dare un segnale molto concreto che i bisogni delle persone vengono prima di qualsiasi cosa. Lo dico perché è fondamentale farlo ora, lo dico perché rischiamo di non avere più tempo di farlo, lo dico perché non possiamo più accettare che le persone muoiono senza cura o rischiano altri di non curarsi. Curare a casa è un'opzione fondamentale, lo possiamo fare, le risorse ci sono, vanno fatte delle scelte e bisogna assumersene la responsabilità. Vi aggiorneremo nei prossimi giorni sulle cose che facciamo a sostegno di questa proposta. È una battaglia di civiltà che ci vede impegnate in prima fila, noi e tantissimi altri. Grazie.